Buongiorno a tutti, come state? Spero tutto bene. Oggi parliamo di una tematica molto cara, una tematica di cui con cui sto prendendo confidenza da circa tre settimane. E si tratta del famosissimo, molto sconosciuto fino a tre settimane fa, però effettivamente anche molto famoso, fenomeno del T-Rex, T-Rex Arms, detto in inglese. Praticamente la mano a T-Rex, T-Rex che l'hanno chiamato così perché praticamente è tipo un dinosauro, no? Sapete, sembra un dinosauro. Allora, T-Rex, T-Rex Arms, mi ha interessato molto questa tematica. In realtà è una cosa che in qualche modo ho ricercato, ho cercato in qualche modo di capire, essendo che è una caratteristica che ho da quando sono piccola. Praticamente spesso e volentieri durante la giornata tengo il braccio così. No, in realtà non così alzato perché mi costa fatica. Lo tengo basso, sempre un po' così. Sempre un po' così. In fase di relax, tra l'altro voglio condividere, finalmente sono riuscita a bloccare la finestra, ho messo un, ho messo un, oh madonna non riesco, aspetta. Un filo qua e ho messo una vite perché sempre la chiudo però col vento si apre. e mi dà fastidio perché questa è una di quelle cose che poi diventano una sorta di alienazione, nel senso che poi tutto il giorno è come se penso soltanto a questa cosa e mi sento innervosita. C'è una persona qua che si affaccia sempre e mi dà fastidio che guarda verso la mia porta, anche perché io vado in giro in mutande in casa. Quindi, anche se non mi guardi il culo, forse è anche meglio, no? Solamente il fatto di aver messo quel filo, vi posso assicurare, è come se piano piano mi si sta sciogliendo quel nervoso che si stava accumulando. Perché sono quelle piccole caratteristiche che mi danno fastidio. Essendo che passo molto tempo in casa, è come se ci sta ragazzi, probabilmente anche voi siete come me, è come se questo è la nostra grotta, quindi il mondo esterno, lo so, è brutto da dire, fa anche un po' impressione, mi viene anche l'ansia a pensarci. Però dopo un po', purtroppo, se non si fa un lavoro su se stessi e non si cerca di sbloccarsi un attimo, dopo un po' la nostra casa, il nostro habitat diventa la nostra grotta e l'esterno inizia a diventare una sorta di predatore, quindi ci dà fastidio che guardano verso la porta. Sono dei fenomeni che un po' inquietano, però ragazzi, alla fine l'essere umano è un animale. Questi qua sono delle cose molto fini delle caratteristiche dell'essere umano. È la nostra natura più primordiale che esce proprio in queste situazioni qua. Adesso però, con cui ho messo quel filo lì, sono più tranquilla. Mi sono un po' rotta le scatole di guardarmi con questi occhiali, non mi piace più tanto l'immagine di questi occhiali in video. Mi sa che cambierò look. Allora, ritorniamo all'argomento. Visto che è una caratteristica un po' strana, questa mano messa un po' così, ed è una cosa che ho sempre fatto fin da quando sono piccola, pensate che io sono andata a fare danza classica dai 4 anni fino ai 12 anni, ho fatto danza classica. Adesso vi faccio vedere una foto. Questa la condivido perché sono venuta parecchio bene. Qua avevo tipo 12 anni al mare, no 12 anni, avevo 16 anni al mare. Avevo tagliato i capelli tutti corti perché dovete sapere che io avevo delle treccine fatte da una nigeriana e praticamente mi sono bruciata la testa. Mi sono bruciata la testa perché in pratica essendo che c'era tutto il cappello finto della treccina, perché erano delle treccine allungate, ce le avevo fino al sedere, praticamente io pensavo di andare... Sì, lo so, evitiamo i commenti per favore, che non è proprio il caso. Io praticamente con l'accendino, visto che erano rovinate, e uscivano tutti i capelli, però mi piacevano, le volevo tenere il più possibile queste treccine, in pratica pensando di andare a bruciare il cappello finto, davo una cosa veloce con l'accendino, ma proprio velocissima, e praticamente tornavano come nuove perché tutti i pezzetti di capello in eccesso praticamente si staccavano e quando ho tolto queste treccine ero praticamente pelata. Ero praticamente pelata. Ho sempre... Una cosa che mi ha sempre contraddistinto è una chioma di capelli molto voluminosa. Vi posso assicurare, quando ho tolto le treccine, ho provato... Mi ricordo ancora il giorno che mi sono fatta la coda piangendo e avevo tanto così di capelli. E quindi ho dovuto tagliarli corti. Però... Io volevo farvi vedere... Volevo farvi vedere quando facevo danza classica. Ragazzo, eh? Scusate un attimo. Eccomi qua. Vediamo se mi riconoscete. Beh, si vede, dai. Chi sono? Oddio, si vede malissimo questo telefono. Vabbè, dai, ragazzi. Sono questa qua. Stringiamo... Stringiamo i tempi. Praticamente mi ricordo ancora che quando facevo danza classica c'erano tutte le mie compagne di danza, tutte sempre molto perfette, strutturalmente perfette. E poi c'ero io che tenevo sempre un po' questa mano così. E mi ricordo ancora l'insegnante di danza che tutte le volte mi dava tipo delle bacchettate sulla mano dicendomi di tenerla dritta, sta mano. E io non ce la facevo perché dovevo tenerla sempre un po' così. E quindi mi sono un po' interessata perché in realtà questa cosa della mano così mi è sempre sembrata un po' strana. Devo dirvi la verità. Cioè, ho sempre avuto un po' la consapevolezza che fosse una cosa un po' strana però non riuscivo a capire bene che cos'era. E da quando ho scoperto di essere Asperger e ADHD ho fatto un po' di ricerche. In realtà inizialmente io la cercavo come mano morta. Però sì, è grazie alla dicitura mano morta che sono riuscita a entrare in contatto con questo termine che in realtà è il termine utilizzato da tutti. e si è scoperto che è una cosa comune nelle persone ADHD e anche per chi ha l'Asperger, l'autismo. Quindi possono averla tutte e due, tutte e due le tipologie. Onestamente questa cosa qua adesso mi ha un po' flippato e quindi stavo cercando un po' in rete delle cose abbastanza chiare e veloci da capire sul motivo per cui viene questa mano morta. Allora, ad oggi sono stata in mezzo a forum, facebook, contenuti di ogni tipo ancora non ero riuscita bene a capire non ero ancora bene riuscita a capire perché poi ognuno dice la sua e non era ben chiaro. Stamattina però... Allora, al di là del fatto che io ragazzi io penso di aver capito il motivo per cui viene questa mano morta anche perché ho trovato una ragazza americana a cui ho chiesto anche di collaborare perché mi piace molto magari vi metto il canale del... il video proprio in cui parla della sua mano morta perché ha detto delle cose il modo con cui le ha dette mi ha fatto rizzare le orecchie e mi sono ritrovata mi sono molto ritrovata vediamo se mi risponde non lo so, gli ho mandato un'email incrociamo le dita perché a me piace portare persone interessanti perché finalmente mi riesco a confrontare con persone che fanno questi contenuti e... lei nel video in realtà parla di una cosa in cui mi sono ritrovata fondamentalmente vi faccio un riassunto lei ha spiegato la sensazione per il quale tiene questa mano morta e ha detto che lo fa perché lo associa a una sorta di depersonalizzazione una sorta di distacco da se stessa perché in realtà è come se la mano non la sente cioè... è come se ci dimentichiamo della mano ragazzi io mi vedo in sta descrizione io mi sento proprio al 100% l'avrei detta anche io così ma non sapevo essendo che è una cosa un po' strana non sapevo bene come identificarla però praticamente lei ha associato alla mano un po' morta il fatto di sentirsi distaccata infatti dice nel video che lei sente l'esigenza spesso di toccarsi per sentire il corpo nello spazio per capire dove si trova questa cosa a me inquieta molto perché so che è vero perché succede anche a me quindi è praticamente una cosa collegata al distacco da noi stessi è come se non siamo veramente presenti nel nostro corpo è come se siamo sempre un po' distaccati un po' altrove e ha detto anche un'altra cosa in cui mi sono ritrovata molto questa sensazione di sentirsi infiniti infiniti nello spazio cioè non abbiamo la sensazione di essere qua ora in questo momento è come se siamo infiniti cioè non c'è una... sono cose stranissime ragazzi tra l'altro da dire però è la verità non c'è... fatemi sapere cosa ne pensate non c'è una... praticamente non c'è una... non ci sentiamo presenti in questo momento ma è come se la testa è annebbiata è un po' distaccata quindi praticamente da qua ragazzi però esce tutto e praticamente escono tutte le problematiche in realtà legate all'autismo la depersonalizzazione il distacco ambientale non capire le proprie emozioni non capire i... come ci muoviamo andare a sbattere continuamente in tutte le parti addirittura lei ha detto anche qua mi sono ritrovata che quando cammina e ci sono delle persone davanti lei in automatico come una sorta di risposta inconscia praticamente si tocca per passare in mezzo o per superare queste persone ha bisogno di toccarsi perchè... perchè ha bisogno di capire dov'è il suo corpo perchè ha paura magari di andare a sbatterci contro questa cosa è molto interessante io personalmente non mi tocco quando passo in mezzo alle persone però mi sono accorta che questa cosa c'è sempre stata nel momento in cui io esco di casa le persone mi iniziano a dar fastidio perchè è come se il mio ambiente deve essere solo mio cioè io devo essere libera di muovermi e quindi se una persona è nello stesso posto a me da fastidio perchè è come se devo dar conto anche al suo corpo cioè è come se il fatto che lei è nello stesso posto per me sia un peso perchè devo stare molto più attenta a come cammino devo stare attenta a non toccarla mentre cammino e via dicendo quindi io non mi tocco come la ragazza del video però cambio proprio modo di camminare inizio ad indurirmi e cerco il più possibile di superarla velocemente perchè appunto c'è questa difficoltà di gestire lo spazio ambientale quindi ragazzi tanta roba come al solito sono tematiche molto complicate molto interessante la ragazza che ho visto nel video vediamo un po' cosa dirà se risponderà alla mia richiesta di collaborazione e fatemi sapere anche voi se se avete questa caratteristica della mano morta e se vi ritrovate in questa spiegazione cioè voi ve la siete fatta questa domanda come mai tenete la mano morta che sensazioni avete quando tenete la mano morta lo fate nei periodi di stress forse vogliamo confrontarci scrivete un messaggio qua sotto ciao a tutti